il museo è famoso ovviamente per le tante sedi in giro per il mondo questa di abu dhabi in verità perché noi parliamo di dubai ma emirati arabi ma è in realtà ad abu dhabi diventerà il museo più grande del mondo o meglio quello realizzato fino adesso perché poi per il domani non si sa magari realizzano uno ancora più grande è una struttura assolutamente spaziale basta dicevo prima guardarlo e nelle strutture spaziali noi ci muoviamo bene perché abbiamo un know-how che ci porta a fare queste grandi opere quindi il gruppo pilosio ha deciso di aprire una sede lì proprio per le grandi opportunità che dà quel territorio la fattispecie l'abbiamo aperta dubai ma abbiamo dei fortissimi contatti e dei collaboratori anche a riad e a jedda quindi in arabia saudita e dubai come tutti sanno è dubai quindi da delle enormi possibilità delle enormi opportunità poi via via facendo il nostro lavoro con un bravissimo collaboratore che abbiamo lì che si chiama francesco de martino abbiamo cominciato a divulgare il nostro sistema che si chiama fra i deck quindi che tutti gli architetti del mondo ci stanno guardando lo sappiamo bene partecipiamo anche a molte fiere internazionali per presentarlo ma non ci sarebbe non ce ne sarebbe neanche bisogno perché tutti lo conoscono e tutti ci invidano questo grande prodotto ben si sposa sospeso questo grande prodotto sospeso ben si sposa alle strutture come dico prima come ho detto prima alle strutture speciali strutture spaziali e da lì diciamo che è stato facile perché abbiamo un prodotto unico al mondo il sistema fly montato all'interno del guggenheim è qualcosa che tutti ci invidano e nessuno ce l'abbiamo solo noi perché è nato dalla storicità dei nostri cantieri cioè a forza di fare di fare abbiamo visto che serviva un prodotto molto più snello un prodotto molto più valido per realizzare i potenti sospesi ed è nato il prodotto fly deck museo guggenheim non è che diciamo l'apice di un del nostro sistema del nostro modo di fare del nostro modo di cogliere opportunità